Zalone, 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 Picelli, Zalone, si è comodo. Mio Zalone, leggo che lei è pugliese, però vive qui vicino a Milano. Sono 30 anni che siamo in Orvaldia, ormai sono lombardo. Bene, bene, bene. E questa è cos'è? La seconda volta che tenti il concorso nell'arma? La terza. La terza? Ah, qui c'è l'aggravante della ricidiva. No, 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 no.